Fabio Fulco dimentica la Chiabotto, nuovo flirt con Noemi Fabio Fulco ha già dimenticato Cristina Chiabotto? Fabio Fulco dopo la rottura con Cristina Chiabotto sembra essere già pronto a voltare pagina. L'attore delle tre rose di Eva si mostra sui social con Noemi, una giovane studentessa di 23 anni. E' stata proprio lei a postare una loro foto insieme. A confermare la notizia è stato il settimanale Spy, in edicola da domani 8 dicembre 2017. Eppure era stato proprio lui ad ammettere di non essere ancora pronto per una nuova storia d'amore dopo la dolorosa rottura con l'ex fidanzata. In molti speravano in una loro riconciliazione, ma i due avevano progetti di vita diversi. Lui da tempo desiderava il matrimonio e un figlio, ma l'ex Miss Italia non era ancora pronta a mettere su famiglia. . . Fabio Fulco già pronto per una nuova relazione? Anche la Chiabotto ha voltato pagina. . Fabio Fulco ha sofferto molto dopo la rottura con la Chiabotto, ma non ha mai smesso di credere nell'amore vero. . Lui stesso aveva detto di voler rispettare i suoi tempi per poi tornare alla ricerca della donna della sua vita con la quale metter su famiglia ed invecchiare insieme. . Di certo nemmeno la showgirl ha perso molto tempo, stando ai rumors ha già intrapreso una nuova relazione con Giuseppe, un giocatore di basket. . . Notizia non ancora confermata dalla diretta interessata. . 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